Ne parlavamo tanto tanti anni fa di quanto è paranoica questa città e la sua gente delle sue mani due discoteche e 106 farmaci e ci troviamo ancora al punto che si gira in macchina al mattino alle 3 alla ricerca di qualcosa che poi cosa non lo sappiamo nemmeno noi colombe la ricerca non si può andare lì non ci basta neanche in pizzeria fermati un attimo all'automatico almeno a piedi non ci lascerai in questa città questa manca io neanche l'opera oramai che resta dove c'è il città che vuole che cosa lascia accesa a fare i ladrini che poi destronzi se ne accorgono più guardare la pecca dentro da noi per una femmina che dice di no adesso vanno e giù a fare i ladrini che non si può andare lì non ci basta neanche in pizzeria fermati un attimo all'automatico almeno a piedi non ci lascerai in questa città in questa città andre vi dimenticina a fare i ladrini che non si prova e sta a fare il città e 2 faccia di farci e di farci e dicci dovere Non ci lascerà in questa città.